Saranno tre giorni, il venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, un weekend bello impegnativo ma ricco di novità. In ogni location abbiamo inserito delle discipline e il villaggio, il cuore pulsante della manifestazione è appunto la Palla di Pomodoro e Piazzale della Libertà dove per tre giorni siamo a presentare, a dimostrare, a coinvolgere le famiglie, i bambini che dopo l'estate, alla ripartenza dopo l'estate vogliono provare e individuare lo sport che li appassiona di più anche cambiando e magari aggiungendo quando si parla anche di adulti che magari vogliono uscire da casa e fare qualcosa a livello sportivo. Quindi ci saranno delle attività anche in Baia Flaminia come la gara di nuoto, in acque libere, in mare e il plugging che è l'attività appunto che mette insieme sport e valori ambientali quindi si corre e si raccolgono rifiuti. C'è l'atletica con tre giorni di eventi sul Nazario Sauro dove ci sarà il DJ set ogni sera per fare festa oltre che sfidarsi sulla pista anche in modo diverso divertirsi. Quindi l'atletica come non l'avete mai vista. Baseball Five, il baseball da strada in piazzale che d'annunzio dove il baseball è stato distrutturato quindi si chiama così proprio perché è diverso non si usa la mazza, il campo è diverso, si usa solo palla e voglia di giocare. Dalle grandi società sportive, del grande sport di WL e Vis fino alle più belle, piccole e grandiose società sportive del territorio che si promuovono nel periodo migliore dell'anno, settembre dopo la pausa estiva. Lungomare Nazario Sauro dove verrà allestita una pista di 90 metri di atletica leggera per l'evento, il secondo evento, street track race. In più avremo Viale Trieste quest'anno per la prima volta dove avremo una pista di bowling per la prima volta all'aperto perché è stata ideata da Sport Park. In linea appunto con Pesaro Capitale Italiano della Cultura 2024 stiamo coinvolgendo i comuni della provincia di Pesaro e quest'anno saremo anche a Vallefoglia. Il 9 settembre nell'area antistante del palazzetto dello sport di Montecchio, l'area sportiva più importante della città di Vallefoglia in cui troviamo il palazzetto del Paladio Nisi, in cui troviamo lo stadio Spadoni, in cui troviamo i campi da tennis. Dopodiché durante il giorno tutte le discipline sportive stanno programmando le loro attività. Mi piace sottolineare molto il fatto che oltre alle discipline più comuni, diciamo calcio, basket e pallavolo, ci sono le esibitazioni di tante discipline. Il tiro con l'arco è molto affascinante, piuttosto che le arti marziali, insomma ci sono tante le discipline che vedremo, la paesistica, la box, insomma sono molte. Riempiremo penso tutto il parcheggio, quindi una giornata importante. Dopodiché nel pomeriggio ci sarà anche con il dottor Marco Antonini una riflessione sullo sport, l'importanza dello sport. Sappiamo bene che lo sport è socializzazione, sappiamo bene che è benessere fisico e quindi molto importante. Ci sarà anche la premiazione di alcune borse di studio per atleti meritevoli, diciamo atleti che oltre a essere a primeggiare nello sport ma vanno bene anche a scuola, quindi si può conciliare bene anche le due cose. Gli orari delle manifestazioni a Pesaro dalle 10 alle 24, gli orari invece del Vallefoglia Challenge 10-22.